Cari amici Nerazzurri e non Inter Udinese 1-3, sicuramente c'è molto malcontento in noi tifosi Nerazzurri ma ora più che mai dobbiamo rimanere lucidi e proviamo a fare un'analisi imparziale, un'analisi neutrale della partita di oggi e della classifica dell'Inter, era risaputo ed è risaputo che l'Inter sta lottando per ritornare in Champions bene, qualora la Lazio che è la quinta vincesse le due partite che al momento deve ancora disputare perché una la deve recuperare, se qualora vincesse queste due partite la Lazio resta comunque a due lunghezze dal quarto posto finché la classifica dirà questo, io non potrò, io ma tutti noi tifosi interessi, non dobbiamo, non potremo mai essere arrabbiati con nessuno, con la squadra, con la società, con nessuno, anzi siamo e rimaniamo tranquilli, sereni e felici perché ripeto l'obiettivo dell'Inter è la Champions, è la Champions, è la Champions, in molti magari pensavano ad altro no, non esiste, non esiste altro, esiste solo la Champions e dopo le tante magre figure della passata stagione adesso dobbiamo dimostrare di essere squadra, una squadra capace di raggiungerlo questo obiettivo perché sì abbiamo parlato che Spalletti ha fatto gruppo, ha instaurato un ottimo rapporto con i calciatori la squadra ad essa è solida ma c'eravamo arrivati anche con Pioli a questo punto magari non così tanto in avanti c'eravamo esposti però, perché sicuramente era una situazione diversa perché Pioli prendeva, aveva preso il posto di De Bourre quindi da una squadra veramente allo sbando e già si trovava in una situazione di classifica precaria mentre Spalletti ha potuto lavorare con calma e quindi sicuramente è stato anche più avvantaggiato da questo punto di vista però il vero valore di Spalletti e il vero valore dell'Inter di quest'anno si vedrà da questa partita in poi si vedrà da questa partita in poi e dobbiamo dimostrare di aver fatto veramente quel passo in più rispetto agli altri anni che poi hanno sancito che l'Inter non era da Champions invece quest'anno no, quest'anno come gli altri anni avevamo le possibilità di arrivarci perché anche l'anno scorso l'Inter aveva la possibilità di arrivarci quest'anno non dobbiamo sbagliare più perché se sbagliamo quest'anno c'è qualcosa che non va ma ripeto, ripeto, è arrivata la sconfitta, la prima sconfitta dell'Inter ma è arrivata dopo 17 giornate, alla 17esima giornata, dopo 16, alla 17esima giornata ci avrei messo la firma, tutti noi ci avremmo messo la firma quindi non sono, non dobbiamo essere arrabbiati dobbiamo essere uniti, ma saldamente uniti e sperare bene, ma non sperare perché poi la fortuna ti aiuta sino a un certo punto e l'abbiamo visto perché una partita come oggi era una partita che si poteva vincere che per quanto ha detto il campo nel primo tempo meritavamo anche di vincerla però giustamente le partite durano 90 minuti e se nell'arco dei 90 minuti non sei capace di fare più gol dell'avversario poi o pareggi o perdi e così è stato quindi i numeri sono dalla nostra parte adesso però parliamo della partita la partita cosa ha sancito ha sancito che se la nostra squadra non rimane equilibrata non rimane compatta subisce gol e lo fa anche facilmente perché lì sul 2-1 c'era ancora tempo di poter di poter imbastire una rimonta invece squadra allo sbando forse voi anche i cambi di Spalletti l'hanno un po' squilibrata e abbiamo preso il terzo siamo stati anche fortunati perché poi la traversa di Skriniar e tante altre azioni questo sì la fortuna a volte dà e la fortuna toglie ma la fortuna ha una percentuale minima in ogni partita e non era fortunata l'Inter quando vinceva non è sfortunato adesso che ha perso non esiste non ragiono così io assolutamente no secondo me si poteva e si doveva fare di più nelle occasioni da calcio da fermo dove molte volte ma forse nel 60-70% dei casi ed è tantissimo siamo arrivati sempre prima dell'avversario e voi con Gagliardini e voi con Miranda e voi con Skriniar e voi con un giocatore o con l'altro non l'abbiamo insaccata mai di testa anche i Cardi impreciso stranamente nell'aria di testa anche i Cardi eppure hanno avuto tutti in tanti l'occasione di battere a rete sui calci da fermo e non abbiamo segnato ed è e lì forse abbiamo perso la partita perché avessimo segnato così non fossimo andati in svantaggio l'Inter se rimane compatta e rimane in equilibrio i gol non li prende facilmente non a caso eravamo la miglior difesa ora non più con tre gol al passivo e quindi e quindi pazienza Santon Santon croce ed elizia di questa partita molto croce molto croce perché cioè due errori due errori sicuramente nel primo non lo so se scivolata comunque ha peccato un po' di superbia cercando di saltare l'uomo ha perso la palla e ci ha preso gol quei gol non li puoi prendere una squadra come l'Inter non li può e non li deve prendere il secondo gol era rigore assolutamente hanno aspettato 30 40 50 minuti per decretare quel rigore era rigore e e Santon lì cioè con un braccio scomposto ma veramente scomposto si fa si fa beffare cioè ci ha beffato tanta inesperienza da parte di questo terzino eh e ci abbiamo ci abbiamo beccato poi un rigore che realizzato da De Paul De Paul una partita strepitosa mi è piaciuto tantissimo questo giocatore un giocatore che secondo me avrà un roseo futuro perché ha tanta qualità ma veramente tanta qualità allora poi è uscito è uscito Brozovic Brozovic quella bellissima giocata al volo gol magari gol un tiro pazzesco e poi niente più Brozovic poca roba ma io onestamente non riesco a capire Perisic che si è fermato cioè Perisic ecco è una cosa pazzesca mi aspetto di più da quel giocatore non capisco cosa non va in lui cioè è un giocatore che potrebbe mangiarsi l'erba come si come si suol dire potrebbe dovrebbe essere combattivo al massimo eppure a parte che adesso non ci non ci becco un tiro neanche a pagarlo a parte questo ma non non lo so gli manca quel mordente non vedo quel mordente da parte sua forse è una mia impressione forse è una mia impressione però vedo dall'altra parte vedo un Candreva che che dà l'anima che dà l'anima un secondo tempo molto sotto tono il suo di Candreva si ha spagliato tanto nel secondo tempo perché poi quando le cose non iniziano ad andare bene lui è uno di quelli che più degli altri ne risente ma nel primo tempo Candreva disumano proprio disumano è stato incredibile un giocatore incredibile però nel bene o nel male Candreva è comunque uno che che dà l'anima in me non lo so malgrado è uno che rientra che assolutamente si impegna però non so cosa manca a questo giocatore c'è qualcosa che non va sinceramente in lui è una mia impressione cioè una partita buona e tre sbagliate una partita buona e tre dove è sotto tono mancano mancano i suoi assist mancano mancano poi si c'è la partita in cui ti fa tre gol come con il Chievo però poi assenteista totale va bene comunque ripeto è una sconfitta non è successo nulla doveva arrivare la prima sconfitta prima o poi doveva arrivare è arrivata è arrivata dopo ripeto dopo sedici giornate alla diciassettesima giornata quindi fantastico ci avrei messo la firma lo ripeto e lo ribadisco adesso dimostriamo di essere uniti e dimostriamo finalmente di essere squadra perché finora è stato semplice è stato semplice perché con le ali dell'entusiasmo si va avanti cioè il pubblico in massa cioè San Siro era una bolgia oggi era una bolgia quindi era molto semplice adesso da adesso in poi i giochi si fanno duri e da adesso in poi si vede se i duri iniziano a giocare e mi aspetto una reazione da parte dei nerazzurri un abbraccio a tutti sempre e assolutamente amala a Grazie.